Noi pensiamo che il PD anche in questo caso manchi di coraggio perché purtroppo accettare un ricatto di queste dimensioni, perché di ricatto trattasi, è qualcosa che noi non ci siamo sentiti di accettare categoricamente perché chiunque abbia anche una benché minima concezione di che cosa sia la democrazia rappresentativa non può accettare una situazione del genere. Non ci vengono a raccontare assolutamente che questa cosa possa essere in qualche modo arginata, il rischio possa essere arginato da una legge elettorale, perché le leggi elettorali possono modificarsi in qualsiasi momento, le leggi elettorali si modificano, le leggi elettorali cambiano, la storia dell'Italia ce lo racconta con quanta facilità cambiano le leggi elettorali. Un provvedimento del genere, una riforma costituzionale rimane.